Deer Creek, soluzioni internazionali, come posso aiutarla? Ciao Maria, sono Rochef. E il tuo nome in codice? Sono pronto a tornare. Ti serve ancora quel lavoro? Beh, stupendo. Beh, solo una cosa. Che c'è? Non so proprio da dove partire. Stai dimenticando cosa fai tu per vivere. Volevi una cosa semplice per il tuo rientro? Questa è semplicissima. Ok, ok, ho capito. Ci penso io. Questa è semplicissima. Ci penso io. Questa è semplicissima. Ci pensano? Non so proprio che sei? Si, potenzione? Non so proprio che sei? Pozono. Non so proprio che sei. Vi lascia testa. Grazie. Oh no, grazie. Senta, per caso avete qualcosa di trezzante? Sì, abbiamo anche uno spuntino per oggi. Questo volevo. Grazie, domo rigato. Sicuro che non vuoi parlarne? No, francamente no. Ok.